La ditta Equip Traslochi è attiva nel settore dei traslochi dagli anni 70. Il nostro lavoro è risolvere ogni vostro trasloco. Chi sceglie i nostri servizi ha a disposizione un'Equip di lavoro unita, professionale, disponibile, direttamente seguita e coordinata dai titolari. Traslochiamo case, aziende e uffici. Dal servizio chiavi in mano, in cui noi pensiamo a tutto, al trasloco Fai da te. Infatti, si possono noleggiare furgoni e autoscale con conducente e acquistare i kit di imballaggio più adatti alle vostre esigenze. I vostri nuovi locali non sono pronti? Equip Traslochi dispone di magazzini a Gorizia e Pordenone adatti a depositare i vostri mobili in box personali, a riparo da agenti esterni e dotati di sistemi d'allarme. Siamo coperti da polizza assicurativa All Risk per qualsiasi imprevisto. Equip Traslochi. Risolve il tuo trasloco. Risolve il tuo trasloco.